Il prossimo 13 febbraio sarò nel santuario di Guadalupe per affidare alla Vergine il Messico e le sofferenze e le gioie dei popoli di tutto il continente. L'ho annunciato Papa Francesco celebrando nella Basilica di San Pietro una missa in occasione della festa della patrona dell'America Latina. Il Pontefice si è soffermato poi sul tema della misericordia, espressione acchiarito composta da due parole distinte, miseria e cuore. Il cuore indica la capacità di amare mentre la misericordia è l'amore che abbraccia la miseria della persona. Nel corso della celebrazione durante la quale ha chiesto anche di pregare per i propri genitori nella ricorrenza del loro matrimonio, Papa Bergoglio ha ricordato a tutti che non esiste peccato che possa allontanarci dalla misericordia di Dio che ha sacrificato il proprio figlio per salvare l'umanità ferita. Il Signore è allergico al pelagianesimo, all'ognosticismo e alla rigidità, sempre cammina al nostro fianco, ci mostra la strada dell'amore, ci risolleva con tenerezza quando cadiamo e ci sostiene nelle nostre fatiche.